La crisi climatica è davvero una minaccia così grande per l'umanità? Per la scienza è una minaccia gravissima, addirittura più grave delle stesse pandemie che ci hanno dimostrato come riescono a mettere in ginocchio il nostro modello di vita. Ed è purtroppo una minaccia sottovalutata a livello della grande opinione pubblica. Invece dobbiamo sapere che gli ultimi anni sono stati più caldi mai rilevati. Il 2019 è stato il secondo anno più caldo, dopo il 2016 che al momento resta il primo. Però c'è una grandissima possibilità che il 2020 diventi l'anno più caldo da quando esistono le rilevazioni meteorologiche. Già in Antartide si sono misurate temperature superiori ai 20 gradi e sappiamo che l'Antartide è un territorio freddissimo. Tutta questa alterazione che è provocata dall'impatto dell'attività umana e non a caso la nostra epoca viene definita antropocene nel senso che è caratterizzata dall'impronta ecologica dall'uomo, mette a rischio l'equilibrio che sottende la vita sul pianeta, così come noi oggi la conosciamo. Questo non significa che a causa dei mutamenti climatici ci sarà la fine del mondo. Però si potrebbe pervenire, c'è il rischio che si pervenga nel lungo termine ad una nuova condizione di equilibrio la quale potrebbe non contemplare l'esistenza del genere umano. Oltretutto noi alcuni effetti del riscaldamento globale già li percepiamo. La riduzione degli acciai è osservata e basta confrontare le foto e si vede. Il progressivo innalzamento delle acque marine che è una diretta conseguenza dello scioglimento degli acciai. La tropicalizzazione del clima e quindi la possibilità sempre più frequente che ci siano eventi meteorologici estremi come tempeste di vento, mareggiate eccezionali e precipitazioni atmosferiche intense e concentrate in brevi spazi di tempo. Possiamo ricordare ad esempio l'evento che colpì Giampiglieri e Scaletta Zanclea allorquando nel breve spazio di 24 ore le precipitazioni equivalse a quelle dell'intero anno circa 600 mm per metro quadro che era la media delle precipitazioni annuali. Queste conseguenze sono devastanti sotto l'aspetto ambientale, economico e sociale e noi rischiamo che le aree costiere, quelle poste a quota del mare o leggermente sollevate possano diventare inabitabili. Corriamo il rischio di vedere i nostri suoli desertificati, di perdere biodiversità e di innescare processi migratori che mettono in crisi le società occidentali. L'esplosione della pandemia Covid-19 ha mostrato fragilità dei nostri modelli di vita. C'è qualche rapporto fra diffusione del virus e sfruttamento dell'ambiente? A livello scientifico non c'è una prova certa che il Covid-19 si sia diffuso per effetto di un fatto specifico, di un intervento specifico sulla natura. Però è evidente che quando l'uomo interviene negli ecosistemi e ne altera l'equilibrio distruggendo le foreste, distruggendo abitati di animali, è chiaro che è qualcosa che qualcosa cambia e quindi quel nuovo equilibrio può anche determinare la diffusione di un virus che prima non c'era. Bisogna osservare pure che in ogni caso questa crisi segnala la fragilità del nostro modello di vita. Di fatto è bastato un virus per mettere in crisi non solo l'economia, ma anche l'idea che noi abbiamo coltivato per secoli, di assoluta potenza rispetto alla natura, di dominio assoluto sulla natura. Questa è un'idea antica che è figlia della prima rivoluzione scientifica, quando l'uomo cominciò a capire di poter spiegare fenomeni della natura e quindi controllarli attraverso la tecnologia per ridurli ai propri bisogni, per piegarli ai propri bisogni di sviluppo e di crescita. In questo modo però la natura è stata oggettivizzata, ha perso quell'aura di sacralità che fino ad allora aveva, quando il rispetto per la natura era una cosa sacra perché si capiva che dipendeva la vita dell'uomo dalla natura. Questa svolta, dovuta alla rivoluzione scientifica, ha chiaramente comportato anche dei progressi, nel senso che c'è stato un aumento della popolazione, degli individui, la mortalità si è ridotta ed è aumentato il benessere materiale, però portata all'eccesso ha comportato l'affermarsi di una pretesa di dominio assoluto sulla natura che finora non ha tenuto conto della limitatezza delle risorse disponibili. E questo è un problema gravissimo perché determina una insostenibilità dei nostri consumi che potrebbe avere effetti devastanti per l'umanità stessa, che mette a rischio la nostra specie. Negli ultimi anni noi abbiamo consumato più risorse di quante la natura è in grado di rinnovare ciascun anno. Ricordo c'è una data che si chiama Overshoot Day, cioè la data in cui si ritiene, secondo i calcoli, che l'umanità abbia consumato tutte le risorse che la natura è in grado di rinnovare. Questa data intorno agli anni 70 si posizionava verso il 31 dicembre e quindi significava che c'era una situazione di equilibrio. Negli anni si è sempre più anticipata e l'ultimo dato ci dice che noi consumiamo tutte le risorse rinnovate in un anno nel mese di luglio, quindi abbiamo poi cinque mesi, cinque mesi e mezzo, nei quali attingiamo alle risorse non rinnovabili. Quindi per garantire la sostenibilità della presenza dell'uomo sulla terra, bisognerebbe mettere in discussione il paradigma dello sviluppo illimitato sul quale noi fondiamo il nostro modello economico. Si tratterebbe di una rivoluzione culturale, in fondo, e non è una cosa semplice da fare, però bisogna cominciare anche dai piccoli gesti, bisogna cominciare anche da azioni semplici. Occorrerà, e questo lo dicono tutti, scienziati, economisti illuminati, quelli che non sono piegati alla logica della crescita a tutti i costi. Bisogna imprimere una svolta verde alla economia, con l'utilizzo di fonti rinnovabili, modelli diversi di mobilità, riduzione del consumo di suolo fertile, questo è un altro grandissimo problema. Noi ad esempio in Italia consumiamo 53 chilometri quadrati di suolo fertile l'anno, che equivalgono a 5.300 ettari, quindi nel giro di 10-15 anni ci giochiamo un territorio pari a quello del parco dei Neibrodi. Dobbiamo tutelare la biodiversità, e per farlo dobbiamo tutelare anche le culture tradizionali, e poi su scala globale mettere delle regole ai mercati e alla finanza speculativa. Insomma, cambiare paradigma significa mettere il rapporto dell'uomo con la natura al centro della vita sul pianeta. La sfida più importante in termini di tempo, quella che va affrontata subito, è quella dei mutamenti climatici. Bisogna abbattere il più possibile le emissioni inquinanti per contenere il riscaldamento globale, quantomeno nei limiti stabiliti dai trattati internazionali. Ma a proposito di rivoluzione culturale, la vera svolta avverrà quando, come umanità, saremo capaci di riacquisire la capacità di meraviglia rispetto alla bellezza della natura. È questo che ci è mancato. In questo approccio economicistico allo sviluppo, noi abbiamo dimenticato che la natura ha una sua bellezza, è fondamentale per la vita dell'uomo, e che va rispettata come un qualcosa di sacro, perché dalla natura dipende la nostra qualità della vita. C'è qualcosa che si può fare subito e ci sono degli strumenti da attivare? Sì, io penso che molte cose vadano fatte subito, perché è chiaro, bisogna avere un pensiero globale, capire come deve cambiare il mondo, quale deve essere il paradigma economico e culturale che deve governare il mondo. Però se noi ci attardiamo a pensare sempre questo, riteniamo che noi non possiamo fare niente perché non dipende da noi. Invece molte cose dipendono da noi, a livello personale e a livello di comunità. Personalmente, ad esempio, è buona norma, questo ce lo dice il buon senso, dovremmo assumere comportamenti responsabili nei confronti dell'ambiente, non inquinare, non gettare i rifiuti, non sprecare il cibo e non sprecare l'acqua soprattutto, che è una risorsa in via di esaurimento, e selezionare i nostri consumi, perché noi possiamo dare una svolta all'economia anche imparando a consumare bene, preferendo i prodotti più legati alla terra. A livello di comunità, a livello di società, invece, dovremmo impegnarci nel sostenere tutte quelle misure che adottano le istituzioni a tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio, per esempio. Noi nei neblodi in un certo senso siamo avvantaggiati, abbiamo la fortuna di avere un'area protetta che è il parco, è un'area nella quale sono conservati valori naturali, ambientali e culturali di straordinario rilievo. Molti sappiamo che esiste il parco, però dovremmo, diciamo, studiarlo di più, entrare più a contatto con la logica dell'area protetta e lavorare per una tutela che sia quanto più possibile attenta e rigorosa, perché il parco rappresenta, è uno strumento già presente, quindi ce lo troviamo fatto, però lo dovremmo considerare come uno strumento attorno al quale si possono promuovere quei modelli economici sostenibili che poi vanno estesi all'intero territorio e io intendo per modelli sostenibili quelli innovativi che tutelino oltre alla natura, anche il rapporto della popolazione con questa natura e la identità culturale della popolazione. Il parco è un'area delimitata, però può riflettere la sua benefica presenza anche all'esterno, ad un territorio, anche quello esterno al parco, che ha la fortuna di trovarsi al centro di due emergenze ambientali e culturali assolute.